Grazie. Mi scusi, dovrebbe uscire un momento, devo fare un elettrocardiogramma al paziente. Ho già fatto un elettrocardiogramma, sì. Però sarebbe meglio farne un altro. Ah, sì, hai ragione, sarebbe meglio. Mi faccio vedere il suo tesserino, dottore. Vuole il mio tesserino? Sì. Ah, sì, certo. Il tesserino dell'ospedale, ma certo. È strano, non riesco a trovarlo. Il dottor Volker mi conosce bene. Come si chiama? Barnard, dottor Christian Barnard. Barnard? Eh.